Finalmente ci siamo, apriamo questo bellissimo Children's Surgical Hospital che abbiamo iniziato a costruire nel 2017 e che finalmente dopo più di tre anni di lavori abbiamo portato a termine. L'ospedale di emergency a Dentebe in Uganda è un ospedale che garantisce un alto livello di cure, un ospedale d'eccellenza, garantisce una struttura nuova, all'avanguardia che in modo del tutto gratuito offre un standard molto elevato di cure sia dal punto di vista chirurgico che assistenziale in generale. Un po' di persone non muore come una persona ricca. Nella mia cultura dicono che il malo è un malo, ma quando si può accettare la salute per libero, non può farlo. Perché quando save i bambini, ti save i bambini. Quando l'emergenza è in Uganda, è l'agenda di aiutare molto, è l'agenda di aiutare molto, perché di poverso. E molte bambini sono i bambini di aiutare perché di questo. Perché non può accettare l'agenda di aiutare, con l'emergenza di aiutare, l'agenda di aiutare, è l'agenda di aiutare che non può accettare l'agenda di aiutare, ma è un'agenda di aiutare. Sì, non è un'agenda di aiutare, ma ha dato un'agenda di aiutare. Ma ha dato un'agenda di aiutare, ha dato un'agenda di aiutare.